se per caso se incontri un poeta non credere sempre a ciò che ti dice le sue parole sono calcolate ragionate parlate con testa ti dice ciò che vede ciò che nella mente sa elaborare se incontri versi scritti da un poeta non cercare di capire ciò che scrive le sue parole escono spontanee dall'anima dal cuore non son calcolate pensate ma scritte di getto così che per quanto cercare di capire vorresti non ce la farai solo lui lei sa ciò che ha da dire mentre agli altri sa far capire ciò che deve ciò che vuole non quello che è se incontri un poeta scopri qualche cosa di nuovo prendi ciò che riesci non cercare di più rimarresti deluso delusa perché solo lui lei sa realmente la sua verità